C'è bossa a naso le due! Non si ci deve andare, vacci no? E le creature che fanno? Restano a casa? C'è assoluta, gli danno chiata lei! Ma non ci posso andare, non ci sto più con la nesta! Quest'anno non lasciate più nessuno a casa. Con la nuova tessera speciale a vedere la Roma ci portate tutta la famiglia. Chiamate la Roma Calcio 5060200 Tessera speciale famiglia, lo spettacolo è per tutti. Per me a la 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 la...